Ciao 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 Ciao, siamo in molte oggi Vabbè, poche ma buone Poche ma buone, giustamente Ok Che giorno è oggi? Vieni che giornale? Il 20, oggi è il 20 Ok, oggi è il 20 Praticamente questo Deve essere Praticamente questo deve essere, aspetta Un mini raduno tappabuchi perchè non sono venute Però alla fine è venuta solo lei Però io ho comunque tappato qualche buco Quindi vabbè Ma se ti sei sempre, cosa senta? È ovvio, come me, se non ti fosse io Sarebbe un po' frana come cosa Quindi, vabbè, niente Sì, per un piano su di te Perchè ieri, perchè sabato non sei venuta Ecco, ti sei persa la danza buddista Ecco, l'anima È Hare Krishna, eccetera Ok, vabbè Niente, adesso Quindi, niente Mi salutiamo Di buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale, peace